salve a tutti sono Mattia per le amiche più intime Mattioschi e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto al DC Retrospective Universe la rubrica in cui analizzeremo non so chi ce l'ha fatto fare tutti i film del DC Expanded Extended Stretched Universe ovviamente in ordine di uscita nelle sale se ve lo state chiedendo prima o poi arriverà anche la Snyder Cut cosa vogliamo farci ma oggi iniziamo da Man of Steel l'uomo d'acciaio e ne parliamo con un cast vario pinto allora diamo il benvenuto a questi ospiti che si sottoporranno a questo viaggio nei ricordi iniziamo da Paolo Innocenti benvenuto ma grazie per avermi invitato a questa retrospettiva io non vedo l'ora ho paura già di essere la pecora nera del gruppo però per l'occasione ecco qua significa speranza e quindi la speranza che possiate essere clementi un po' ce l'ho staremo a vedere poi abbiamo Emilio di Brian Bounds benvenuto grazie mille io posso rispondere alla tua domanda chi ce l'ha fatto fare si chiama Matioschi quindi non lo conosco sono una persona orribile no è molto simpatico quindi lo ringrazio per essere qui e saluto gli ospiti che mi hanno preceduto che seguiranno grazie a tutto anche il pubblico e abbiamo poi Michele Innocenti salve buonasera viste le premesse dell'altro Innocenti ci tengo subito a sottolineare che non siamo parenti eh lo dice lui lo dice lui si dissocia immediatamente subito subito con Victor Laslo 88 salve 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 una una puntata una prima puntata frizzante molto bene direi c'è una bambina inquietante sulla televisione alle sue spalle cosa scusa c'è una bambina inquietante sulla televisione alle sue spalle è una bambina inquietante è la è la figlia di Jamie Foxx in mi metti in imbarazzo non mettermi in imbarazzo papà o qualcosa del genere la nuova grande capolavoro no è uscita oggi su Netflix è una sitcom con Jamie Foxx è simpatico bene allora parliamone parliamone allora sitcom vecchio stile eh molto carino io devo ringraziare ringraziare questi ospiti perché sappiate che era una rubrica così temuta che ho ricevuto tre no quindi eh sono degli ospiti veramente che si prestano aspetta ho ricevuto tre no da degli ospiti sì 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 appena ho detto c'è da vedere man of steel sono scappati tutti quindi voi siete i superstiti di una battle royal che si è tenuta nel backstage e quindi siamo gli scarti quindi insomma no no siete più forti la selezione naturale vi ha condotti qui e quindi c'è la domanda di rito con cui iniziamo queste rubriche e quindi facciamo veramente un viaggio nel tempo e vorrei sapere quali furono le prime impressioni dopo la prima visione al cinema oppure a casa e se quella prima impressione si è evoluta nel tempo magari all'inizio vi piaceva adesso vi fa schifo magari vi faceva schifo adesso mi piace magari rimasta stabile una cosa curiosa cominciamo dal signor paolo si ricorda sì mi ricordo assolutamente che vedi questo film al cinema e come spesso il paolo diciottenne faceva lo esaltava tantissimo senza magari rendersi conto dei difetti il film rivedendolo tante volte avendo acquistato il blu ray perché continua a piacermi molto ovviamente riconosco abbia dei problemi riconosco abbia dei difetti l'ho rivisto anche ieri proprio per essere pronto come se tanto non l'avessi mai visto ci sono delle cose che proprio non mando giù ma allo stesso tempo non era facile per me fare anche un film su superman dopo quello di donner che comunque io amo alla follia e seppur questo non sia all'altezza dico già che lo trovo un bellissimo riadattamento di questa storia e sarò pronto a parlarne ok benissimo emilio solita domanda io ci ho pensato perché la domanda di rito ormai sono abituato come le tasse c'è sempre e tutta notte che ci penso quando ho visto questo film con chi non so rispondervi so però che non mi era piaciuto poi tanto l'ho rivisto stamattina l'ho cancellato evidentemente l'ho rimosso una cosa che non faccio mai ma non ricordi ricordo però che mi era piaciuto il costume perché era più o meno 2013 nel 2012 ero sito a misi spider man c'erano critiche sui costume di spider man di batman superman che erano a rilievo ricordo questa critica palloni da basket a me l'unica cosa dicevo non sono piaciuti nessuno dei due film ma i costumi mi garbano mi piacciono l'ho rivisto stamattina vi dirò che la prima parte di entusiasmo mi piace poi man mano inizia a scendere però entro nei dettagli e ando avanti benissimo michele prima visione allora l'ho sicuramente visto al cinema con i miei sodali compagni di visione non l'ho detestato come così come non lo detesto oggi però come succede spesso con i film super chiacchierati e soprattutto quelli del buon zack snyder di cui ci tengo subito a sottolineare il fatto non sono un hater ma un acceso critico perché li voglio bene però insomma si impegna ma si applica ma non arriva quasi mai al risultato mi ricordo che mi lasciò divertito ma abbastanza indifferente e poi mi è venuto da sorridere prima perché mi è venuto non so perché un'associazione mi ricordo che dissi dai su questa base qua sia il giusto successo potremmo costruire potranno costruire qualcosa di interessante il bello è che appena ho pensato questa cosa mi sono ricordato che giovane e ingenuo l'avevo detto anche a 14 anni uscito dal cinema dopo aver visto battaglia per la terra con gian travolta diciamo che poi quello che è venuto dopo più o meno si è allineato con la qualità di quel film ormai storico senza infamia e senza lode io victor ricordo benissimo la sua prima impressione ma adesso ci renderà però non eravamo a vederlo insieme no non eravamo insieme chissà perché perché non non ero riuscito a venire quella volta lì non avevo problemi all'auto cioè nel senso non ricordo cosa è successo sta di fatto che per me è un film veramente pessimo nel senso che era il tentativo di cavalcare l'onda del successo dei super di batman disney di di nolan e lavoro era voluto fare il superman di snyder prodotto da christopher nolan come se potesse imporre le mani e rendere il film uguale batman soprattutto l'idea più stronza del di sempre rimarrà il fatto di vedere superman in chiave dark puoi farlo ma è difficile che possa venire apprezzato abbiamo avuto un superman con ericavi che per tutto il tempo tutto il tempo non c'è una singola scena in cui non abbia questa faccia cioè è fastidioso è fastidioso tu ci va vedere superman che è un personaggio che in ogni cazzo di tavola sorride a 33 a 32 denti e tu in questo film lo vedi sempre così testa china broncio questo mantello tu questo mantello bordeaux tutto desaturato il più che diventa color ghiaccio ma scene come lois che va al polo vede questo tizio che cammina in camicia e tu chi sei c'è un tizio al polo nord che sta camminando con la camicia aperta tu chiedi tu chi sei ma chiama la polizia ma fai qualcosa non è normale un tizio con la camicia aperta che passeggia sul ghiacciaio ma ti sembra normale non c'è mezza scena che abbia senso in sto film di merda l'unica cosa che posso che l'unica cosa buona è zod zod è scritto bene l'interpretatore a dio michael shannon basta è l'unica cosa che funziona in questo film peraltro c'è proprio no dai poco poco allegorico voglio fare un bello che gli altri sono stati moderati no 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 per me questo film è un insulto all'intelligenza dello spettatore voglio fare una lieve metafora salve sono super meno 33 anni mi devo immolare c'ha ragione nostalgia critic che da ogni scena sembra che senti le urla i am jesus è quella roba lì è terribile c'è l'allegoria funziona quando è fine tra le righe non quando salve ho 33 anni sono clark kent 33 è se non si fosse capito 33 i riferimenti cristologici sono sono tanti però ho capito se posso dire solo una cosa per me l'aspetto dark cupo di henry cavill è uno dei maggiori pregi del film la cosa che tra le tante ho apprezzato posso fare un cappellino posso fare un cappellino anch'io subito iniziale può esistere un superman dark non puoi fare un superman dark in una storia in cui superman deve essere il più puro superman che ci sia perché tutto il resto a parte l'approccio visivo recitativo di tonalità registica a parte quello tutto il resto è una classica storia di superman solo che superman è sempre incazzato come diceva victor e soprattutto ha un padre psicopatico poi arriveremo al padre credo sia uno degli oggetti principali della discussione poi tra un 20 minuti dovrò lasciarvi per un po vorrei solo dire una cosa vorrei ricordare il presupposto magnifico da cui parte tutto questo è giorel l'uomo che ci costruisce le astronavi e che ha contribuito al progresso tecnologico di cripto di cripton guardate il pianeta sta per esplodere eretico non capisci un cazzo ma ma è un genio vi ha costruito le astronavi volate grazie a lui no eretico non capisci non sei un velocienziato e facciamo la cosa più più sensata di tutte mandiamo i più il criptoniani più cattivi proprio al sicuro nello spazio in modo che non ne esplodano col pianeta cioè io capisco che di base la storia è quella ma è messa in scena in un modo imbecille io quando lo guardavo quando lo guardavo dicevo ma boh con gli astronavi che sembrano dei esatto membro di membro perché lo mettono di dietro allo spettatore no sin da subito io quella cosa non ho mai capita sono dei cazzi volanti vogliamo parlare dell'incredibile world building di cripton tutto tecnologico no devo scappare salterò sul drago never ending story cioè un secondo di drago e poi non li vedi più ma cosa non è che arrivare a casa ci mettono tre quattro ore come un'autostale in effetti ti giuro io io lì che boh ultima risposta lampo di questo primo round al mio cugino paolo non è mio amore mio esiste il modo migliore un mio modo migliore per fare superman anche dopo richard donner l'ha fatto brian singer nel 2006 sì sono d'accordo mi piace anche a me quel film però secondo me questa versione di superman molto più oscura molto più dark con un superman diverso da quello che siamo abituati anche a leggere nei fumetti tanto di cappello io sono stato contento di vederlo così poi come dice vic può non piacere ci mancherebbe altro io invece sono stato contento di questa diversità dunque prima visione devo mettere le mie colpe entusiasmo mi era piaciuto parecchio credo fosse la suggestione post nolaniana nel senso che dopo la trilogia di batman la voglia di vedere una bella trilogia su superman non me la toglieva nessuno anche perché poi possiamo anche realizzare la genesi del progetto le premesse erano queste cioè realizziamo una trilogia o comunque un film su superman isolato da tutto il resto sì ci infiliamo la chicca wayne enterprises come scritta sul satellite ma non più di quello non si vede neanche diciamoci la verità manco si vede nel film poteva essere un easter egg simpatica carina però non c'era l'intento di lanciare l'universo incredibile ma poi ci arriveremo batman v superman che veramente un film molto work in progress quindi comunque la prima parte un po introspettiva non mi era dispiaciuta la seconda parte scazzottoni da orbi che poi forse il problema principale credo sia un film diviso in due anime lì per lì mi era anche piaciuto poi sarà merito o demerito del post man of steel saranno le successive visioni sarà il confronto con gli altri ma qualche problema questo film ce l'ha credo che a fronte di quello che è successo dopo si intravedono già qui i semi del male e quindi non riesco ad isolarla come visione ci sono tutti i problemi che poi snyder incentiverà anche successivamente e ci sono dei problemini di scrittura tanti spunti che sviluppati successivamente potevano anche dare maggior valore al film che invece sono stati messi da parte ad esempio poi ci arriveremo l'uccisione di zod ad esempio il fatto dell'identità segreta di clark che secondo me è stato un grave errore quindi tante cose all'epoca mi fecero dire ma magari dopo le sviluppano in questo modo tutto sommato un film di origini ci può stare che sia un superman diverso non ancora diventa totale tutto sommato c'era il beneficio del dubbio esatto c'era il beneficio del dubbio alla fine storia di genesi può essere un superman ancora incerto può essere un superman che sbaglia poi dal prossimo film sarà no e quindi capito che questo è il superman di snyder un po di problemini comincio a avvisarli fin da subito ma anche oggi non lo ritengo un disastro inguardabile qualcosa di interessante c'è 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 quindi questo questo è il primo round immaginavo critiche più aspre se scatenato solo victor ma io mi ricordo cosa i film successivi di cui dobbiamo parlare otteniamo guarda sai cos'è non è tanto per la questione fin successivi io già lì per battuta sì no no sì ma i film successivi sono anche peggio però il punto è che parte tutto da qui nel senso nel senso che noi ridiamo tanto per la scena di marta giustamente per batto di superman ma io vorrei ricordare che qua c'è una scena di lui che si mette a volare raso terra sfonda tutti i muri e c'è questa scena di lui che picchia zog non deve permettere di insultare a mia madre c'è quella scena lì ancora oggi io scoppio a ridere come un coglione perché non ha non ha senso mia madre ma è la mamma è sempre la mamma mia jonathan ma scusami perché jonathan kent cioè no è quella allora parliamo subito parliamo di jonathan kent caratterizzazioni jonathan kent morte jonathan kent virgola psicopatico no ma ragazzi il problema di jonathan kent è fermo figlio non mi devi salvare la vita lasciami morire nessuno deve sapere chi sei viene portato via in silenzio peraltro dalla tempesta non ne mette un gemito la scena lì è davvero assurda o che aspetta e vorrei far notare che il film inizia con lui che davanti a delle persone senza il costume solleva una petroliera per salvare esatto esatto infatti è quello che anche mi ha dato fastidio perché anche lì non ho capito dico va bene ma tu che adesso non l'hai salvato e poi andrei a farti vedere da tutti ma non solo ragazzi questo ha tirato fuori un bus della scuola dal lago davanti a tutta la classe professori lo sanno già tutti che questo è particolare che c'è da nascondere poi c'è una discussione però con il padre proprio perché lo sanno già tutti c'è il padre che anche in modo molto duro gli dice guarda era meglio se li lasciavi morire forse quindi tra l'altro appunto jonathan kent psicobatico cioè allora no io non premessa non voglio fare troppi paragoni con il fumetto perché i film sono i film il fumetto il fumetto si può fare una una discussione approfondita sulla il confronto materiale d'origine adattamento però io ora parlo prettamente del film superman per come lo conosciamo noi appassionati di cinema è appunto un personaggio di speranza cosa che in questo film non riesce praticamente essere mai proprio perché gli insegnamenti del padre sono quelli sono sempre stati quelli al contrario della madre che cerca sempre di assecondarlo ma anche di farlo sentire a suo agio tu sei straordinario devi nasconderlo perché tutto il bene che puoi fare probabilmente porterà male quindi per forza poi questo cresce che c'ha dei problemi in cui smatta urlando mamma sfruggendo grattacieli il problema grosso secondo me del rapporto con jonathan jonathan e clark è che il senso di quello che dice jonathan si può anche capire ma è proprio caratterizzato male o meglio non è proprio caratterizzato e compare per poche scene esatto jonathan kent dovrebbe essere un padre amorevole ok è il padre umano di superman in questo film spicca di più jorel cioè jorel e jonathan kent non dovrebbero spiccare l'uno sull'altro dovrebbero avere delle caratterizzazioni paritarie perché uno è il padre biologico che lui non ha mai conosciuto che ha costruito un futuro per lui e quant'altro e l'altro è il padre che invece lo ha cresciuto non è il suo padre biologico ma di fatto è suo padre ed è un concetto bellissimo è il diciamo la storia per eccellenza sull'adozione su come un genitore non biologico può essere tranquillamente considerato genitore anche se non è lui ad averti ad averti concepito ecco benissimo qui abbiamo da una parte una caratterizzazione comunque superficiale di jorel che è rassel crow ma che comunque perlomeno un attimino più ampia se vogliamo la primissima parte del film è tutta dedicata a lui non è che compaia molto non è che lo approfondiscono in maniera eccessiva ma sicuramente è più profondi giornata jonathan che dice due cose da psicopatico e muore come uno stronzo sotto la tempesta peraltro ripeto in silenzio c'è proprio c'è la scena sembra lo schiacco di thanos c'è lui che viene e poi soprattutto perché siamo in quella situazione per salvare il cane che va bene ci sta è solo che cinematograficamente è stupido cinematograficamente che questo muoia per salvare il cane per quanto nella realtà è una cosa che io posso accettare perché io amo il mio cane e quindi fare di tutto per per salvarlo cinematograficamente è stupido mi dispiace tutti quelli che non è stato diceva ma vaffanculo ma lo so che il cane il cane lo salvi certo che lo salvi non in quella situazione del film non so perché non so dire perché ma è stupido ti viene da dire ma vai a cagare non è accettabile che il personaggio muoia per quel motivo ma infatti il problema di quella scena non è tanto quello che succede ma proprio lo sviluppo in scena dell'evento perché potevano renderla più improvvisa più drammatica più inaspettata anche per clarke invece proprio è un crescendo di assurdità ma bastava far vedere due famiglie in difficoltà due famiglie in difficoltà la scena da una parte il padre non è neanche tanto il cane il problema secondo me paolo il problema è il tempo perché c'è troppo tempo tu hai la scena che lui riesce a dirti no lui che guarda l'indecisione e poi muore c'è il tempo di salvare o trovare nessuno come manca il pato così come va bene che è un uomo di una certa età ma fondamentalmente gli è rimasto il piede tra la portiera e il sedire davanti dell'auto non penso che tu ti sia spaccato una caviglia puoi rotolare lì accanto c'era il come si chiama il dosso al lato della strada proprio al rosola ci sono talmente tante cose che in quel minuto in cui poi decide di morire potrebbe fare per salvarsi che non ci crede sarebbe potuto andare clarke nessuno veramente avrebbe notato il fatto che lui fosse superman nessuno se ne sarebbe accorto perché vai da un punto a un punto b saranno 20 metri salvi il cane no ci va il vecchio infatti la scena per me io credo sia la più brutta insieme a un'altra la tiro fuori eh Matteoschi scusami ma perché secondo me fanno vanno a braccetto sono i veri problemi i simboli dei problemi di questo film e di quelli successivi di Snyder Snyder non capisce dal mio punto di vista è un bravo shooter c'ha un senso estetico discutibile ma apprezzabile non capisce cosa vuol dire raccontare una storia o mantenere un tono perché secondo me i problemi che ci sono nella scena di Jonathan Kent eh per cento ci sono su quel su quella della morte di Zod non tanto perché uccide Zod e Superman non uccide non è quello non è la scena della morte è quello che succede subito dopo Superman famoso per essere quello giusto che non uccide mai nemici o comunque in situazioni strane mi aspetto che sia nella cosiddetta fortezza della solitudine a distruggere iceberg a disperarsi no va a tirare un satellite ai soldati ma non lo so lo so mi interrompo qui io separerei separerei le due cose perché sono proprio scene molto discusse quindi io intanto ragazzi vado un attimo a fare quella cosa poi torno vai a dopo temporaneamente prima terminiamo la parentesi Kent un po' perché voglio sentire bene anche Paolo ed Emilio un po' perché non ho detto la mia e poi passiamo alla morte di tanto l'hai tirato in ballo ci sta assolutamente la morte di Zod Emilio questo questo Kent che si sacrifica abbiamo già intuito che comunque sia una scena che non è piaciuta a nessuno però no più che altro che ricordando un pochettino anche il trailer io pensavo effettivamente che avrebbero molto puntato sul dualismo come diceva poi Victor padre biologico e padre adottivo e mi mancava completamente questo dualismo poi nel film il trailer puntava molto su ciò arrivi qui c'è qualche flashback messo qua e là e io posso capire la scena posso capire il suo insegnamento però per l'appunto all'inizio nel prologo ci sono due o tre scene si mostra addirittura Alois Lane nel ghiaccio cioè tuo padre non l'hai salvato perché gli ha detto non farti vedere non salvarmi la vita e poi a tutti i mostri che sei e quello non mi andava giù per coerenza narrativa io vado molto a vedere quell'aspetto la coerenza narrativa quindi è un film per una prima parte messa così che fa molto origini di Batman Begins lui da bambino lui ricordi lui dark lui cal barbone che va arriva alla fortezza della solitudine una parte che è lunga è lunga e noiosa e arrivi questa scena che dovrebbe essere il climax l'apice dura un casino superman sappiamo il personaggio lo conosciamo è super veloce quindi non mi regge il minuto e mezzo no figliolo lasciami morire ma va arriva prendilo un secondo hai fatto tutto hai anche pulito casa cioè non ci sta non sta in piedi quindi non ho di cerita mi spiace so che anche a Paolo non ha fatto impazzire nonostante il gradimento sì quella scena non è piaciuta nemmeno a me perché come ho detto prima avrebbero potuto inventare qualsiasi altra cosa però invece mi piace molto l'interpretazione di Kevin Costner nei panni del nostro Jonathan e anche il momento tanto criticato in cui in maniera dura Jonathan dice forse avresti dovuto lasciarli morire a me non disturba affatto perché comunque lì si parla di un tema molto attuale anche oggi la paura di mostrarsi per il timore che la gente possa puntarti il dito contro la paura di essere considerato diverso sì Jonathan Kent sarà veramente quasi cattivo sembra quando dice piuttosto muoiono gli altri ma tu che sei mio figlio vivi però allo stesso tempo se vediamo anche quello che accade oggi vediamo quanto la società non non riesca a percepire quanto anche le persone che all'apparenza diversa in realtà sono uguali a noi beh in questo film di questo se ne parla si parla di integrazione si parla di un padre che è disposto a fare di tutto pur di salvare questo dono che gli è capitato poi riferimenti cristologici sono tantissimi però questo dono che gli è capitato e che difende con la vita una messa in scena poi di morte terribile però comunque il concetto per me è davvero molto interessante però Paolo scusami Mattia secondo te è quello il concetto di quella scena perché a me non mi sembra che Jonathan Kent abbia paura per il suo figlio abbia paura di quelle delle conseguenze della presenza del figlio con i poteri che lui sa che abbia nel mondo a me mi sembra che voglia più tutelare gli altri dal figlio che viceversa è una cosa che si abbraccia insieme perché ovviamente se il figlio si rivelerà ha paura di come il mondo possa reagire e questa cosa più volte viene spiegata e che quindi il figlio possa andare anche incontro lui che dovrebbe portare il bene a sofferenze perché nessuno lo riconoscerà non mi sembra nel film che ne esca Jonathan Kent come un padre putativo che ha molto a cuore la sicurezza o il benessere del figlio intanto come fa Marta che è anche molto più sensibile per come viene rappresentato nel film nella scena in cui va a scuola a prenderlo quando si chiude nel ripostiglio si vede che ha più empatia lo lascia molto più libero innanzitutto e poi appunto non dimostra un affetto tale da dire voglio proteggere mio figlio secondo me non viene fuori questo diciamo aspetto del personaggio io ti dico l'ho rivisto ieri e invece l'ho percepito io l'ho rivisto un paio di settimane fa prima dell'uscita dello Snyder Cut a me sembra più un umano che non facendo pace con quella che è la vera natura del suo figlio adottivo cerca di mantenerlo sotto una campana di vetro che il problema sta lì secondo me al di là della messa in scena della morte e tutto è l'esatto opposto di quella che è l'importanza e il peso specifico del personaggio di Superman secondo me il problema è un altro ok voleva essere una rivisitazione di Jonathan Kent tendenzialmente sempre questo uomo affabile molto aperto che anzi a volte dopo iniziare le titubanze incentiva quasi il figlio ad abbracciare il suo destino e anzi gli dice sì vai a salvare tutti qui invece vuole proteggerlo per motivi che state analizzando poteva anche starci poteva essere una cosa interessante il problema è che è un intero background che non ha conseguenze perché anche tralasciando la messa in scena terribile della morte di Jonathan Superman o Clark se preferite non impara niente da tutto quello cioè fa esattamente il contrario esatto dopo la morte del padre fa esattamente il contrario di quello che gli è stato detto tutta la vita cioè paradossalmente quello era il background di un Superman più ombroso più cupo sfiduciato nei riguardi dell'umanità intera paradossalmente è quasi il background del Superman di Batman v Superman ma non di questo perché questo film secondo me rimane un po' in bilico vuole fare delle cose nuove ma allo stesso tempo vuole anche essere rassicurante ragazzi vi inseriamo un background innovativo però sappiate che la destinazione è quella cioè diventerà il Superman che conoscete che magari dovrà anche affrontare delle decisioni pesanti come uccidere Zod ma in ultimo sarà il Superman classico c'è anche la scena finale di lui che arriva al Daily Planet e invece non è a parte che non sarà così ma allora perché farmi il Jonathan Kent più ombroso se tanto non appena muore cioè sembra che Clark si libere di un peso è vero è vero posso fare quello che voglio ed è per quello che non funziona in fin dei conti è un po' una contraddizione cioè tu vedi un Clark che comunque ci prova per carità cerca di non farsi vedere a parte Lois ma vabbè lì c'è il fattore tira più il pelo è ok però insomma no avrebbe avuto senso drammaticamente se dopo lo svilupparsi della storia fosse basato sulla mancanza di Superman nel mondo nella situazione drammatica che Zod causa colui che si trattiene proprio per la paura della perdita del padre cosa che non succede mai cioè alla fine non solo usa sempre poteri sotto la luce del sole per fare del bene cioè non si perdita neanche a fare rispetti ai bulli al bar cioè qualcuno se lo sarà chiesto chi cacchio ha preso un palo della luce e ci ha conficcato quel furgone quel camion lo usa come se fosse uno schioccare delle dita ai suoi poteri con una sfacciatezza una leggerezza che non danno peso a quello che è il sacrificio all'insegnamento del padre e poi quello lì era il fratello di quello che in Justice League mangiava il panino che gli cade è il fratello di lui Eugenio ci dice ma invece fare come in All Star Superman in tutte le altre storie dove Jonathan Kent muore di infarto e quello è una morte secondo me molto più simbolica a cui volevano fare una cosa diversa io ho anche capito il senso come al solito di Snyder capisci sempre le intenzioni ti mancherebbe altro a volte manca l'abilità nel mettere in scena quelle intenzioni però poi settimana prossima arriveremo a Marta che è tendenzialmente una scena che quando critichi ti fanno l'analisi filosofica ho capito il concetto però essendo il cinema un mezzo che fa anche della visione il suo punto di forza bisogna mettere in scena bene io sono in grado di comprendere tutte le scelte drammatiche che Zack Snyder compie nei suoi film il problema è che non le sa gestire cioè è molto semplice se questa scena come abbiamo detto vedeva Clark che per salvare un bambino si allontanava da Jonathan e una macchina lo travolgeva senza che lui potesse farci niente era tutta un'altra scena cioè quel gesto, quel sacrificio ribadisco partendo dal presupposto che aveva già fatto vedere a mezza città i suoi poteri tutta la classe, gli insegnanti eccetera eccetera quindi poco c'era da nascondere così come dopo non nasconde niente a nessuno proprio la messa in scena di quel sacrificio così iconografico quasi quasi a rallentatore perché tutto per Zack Snyder deve essere esagerato visivamente e concettualmente è quello che rovina il momento non tanto la morte di Kent mi ricollego a quello a cui si era ricollegato Michele un altro problema della sequenza Jonathan e anche di altre è che manca la reazione di Clark esatto o meglio le reazioni sono urla silenziose silenziose poi è interessante anche il poi io avrei capito il Clark che se ne sbatte degli insegnamenti del padre se ci fosse stata una scena di confronto tra lui e Marta se magari si fosse aperto con qualcuno però con Lois si apre sulla morte del padre come l'appre... cioè relativamente a me sarebbe interessato proprio il post in una scena di funerale lui che dice no nonostante tutto ecco ma poi volendo la motivazione c'è anche io che non ho agito ho permesso che mio padre morisse non permetterò più che nessun altro muoia davanti ai miei occhi no ma io sono d'accordo se lo fai tipo zio Ben in Spider-Man la rendi un po' così che è inaspettato da grandi poteri da grandi responsabilità ma andava benissimo cioè lo ricalchi lo fai un po' cambi un pochino però effettivamente ti manca quel quel punto perché vai a capirlo a livello di sceneggiatura o di idea il concetto c'è lo capiamo tutti però quando metti sempre un'opera d'arto qui cinematografica deve arrivare deve essere trasmessa non devo andare là io a scavare e poi è facile al cinema trasmettere emozioni se qui non riesce questa morte ma alza il riso perché io ho riso questa scena ragazzi io ho riso era lì molta gente ha scritto anche prima si doveva far perdonare Kevin Costner il film che ha fatto che non era andato bene tipo Waterworld cioè e quindi viene da ridere non funziona sempre si ha lodato Waterworld tanto ci ricordano che il generale Martian Manhunter assolutamente quello è vero rivedendolo ho detto caspita però no commento al riguardo per favore ovviamente torna tutto ci mancherebbe altro è vero rivedendolo ragazzi mi sono proprio reso conto che qua i rallenti quasi non ci sono cioè c'è un altro problema qui che dopo possiamo citare posso dire l'ultima cosa secondo me che ne abbiamo parlato ci siamo stati subito a metà film buona parte della mancata riuscita anche proprio della struttura drammatica nel film è in questa scelta dal mio punto di vista senza senso di raccontare tutta la prima metà con i salti avanti e indietro nel tempo cioè non hanno veramente senso come struttura presentano il passato e il presente attuale prima che diventi Superman del personaggio quasi come se fossero dei flash non quello che corre ma flash così narrativi sono una sequela di scenette anche gradevoli da vedere ma che non ti danno un'idea di un crescendo del personaggio che poi lo porta a fare determinate scelte come dicevi te Mattioschi voleva essere un parallelismo con Batman Begins a mio avviso esatto esatto però lo danno e come hanno cercato anche di distanziarsi da ciò che aveva fatto Donner con i tre blocchi Krypton Smallville e Metropolis secondo me quest'andare avanti e indietro dove si mostra lo sviluppo del personaggio un personaggio che continua a sbagliare che proprio si percepisce anche quanto non impari dai consigli che gli sono stati dati ma che ogni volta deve sbatterci la testa come abbiamo parlato fino ad adesso per me questa è una rappresentazione di un personaggio molto più simile all'essere umano nonostante sia alieno di tanti altri casi io la trovo una scelta narrativamente forte che funzionava in un film più quadrato come Batman Begins ma che è l'ennesima scelta tra virgolette barocca di un regista che dell'artifizio fondamentalmente ha fatto il centro di tutto il suo modo di narrare cioè proprio io siccome all'inizio vedo la scena della piattaforma petrolifera so già che tutto quello che insegna Jonathan se ne sbatterà in futuro Clark quindi fai ma di cosa stanno parlando questi due poi proprio anche a me piace una narrazione lineare soprattutto in una storia di origine che deve introdurre un personaggio il suo mondo qua ripeto mi sembra che racconti tanti piccoli passaggi in maniera molto poco organica alla fine molto poco anche riuscita per come avanza la drama però sai quello è un problema che possiamo riscontrare a chi non piace in tutti i film di Snyder l'individualismo nei film di Snyder è sempre presente alla fine quindi anche in questo caso io vedere ripeto un alieno che invece si comporta molto più da umano che quasi gli esseri umani stessi sbagliando e andando incontro anche a contraddizioni cioè lo rende ancora più speciale e sono il primo a detestare la scena di Jonathan ripeto quindi non è che lo voglio difendere a spada tratta questo film però sinceramente anche il fatto ad esempio di utilizzare questa camera a mano così frenetica molto spesso così come sono frenetici i cambiamenti anche nella vita dell'eroe per me è una scelta molto sensata ok allora è già due volte che salta gli onori della cronaca che balza la regia ora effettivamente qui con i ralenti si contiene è vero si contiene c'è un altro problema a mio avviso non so perché ma in questo film Snyder il nostro amico ha deciso di sperimentare uno stile documentaristico sì e quindi di tanto in tanto ci sono questi zoom un po' improvvisati una telecamera un po' traballante la fotografia molto sporca non ho ben capito il perché vabbè addirittura qualcuno ha tirato non in questo caso ma per le scene dell'infanzia hanno tirato in ballo Malik perché c'era c'erano i campi di incontroluce vi dirò vi dirò anche che all'epoca gli zoom vennero molto criticati in realtà all'interno del film saranno 5 o 6 cioè rispetto alla pletora di Ralenti a cui poi assisteremo è vero questo stile è anche abbastanza contenuto però è vero che è un film strano nella carriera del regista è molto meno estremo di tutti gli altri è vero quasi di transizione quasi come se fosse un qualcosa che poi lo porti già con Batman v Superman le cose posso dire una cosa secondo me non è un caso che sia l'unico film del DCEU o almeno di quelli di Snyder in cui all'inizio compare il logo della sincopi che poi dopo Nolan giustamente ha tolto da tutto quello che è avvenuto dopo anche se resta come produttore esecutivo ho dei problemi anche con l'ultimo cinema di Nolan quindi non è che lo considero una figura paterna per Zack Snyder che poteva risolvergli tutti i problemi ma secondo me sul set di Man of Steel Nolan c'è stato e c'è stato molto o di persona o insomma in senso lato del termine secondo me un pochino l'ha gestita l'ha gestito più da vicino rispetto a quello che è avvenuto dopo che andava al di là dei progetti iniziali è palese che qui Snyder voglia giocare a fare il Nolan che avrebbe fatto il Superman che avrebbe fatto Nolan dal suo punto di vista infatti sapete cosa mi è venuto in mente che io quando andai al cinema non ero molto curioso dei film però mi dissi dai andiamo lo fa lo fa Snyder sicuro avremo un opening bello perché mi ricordavo comunque l'inizio fantastico di Watchmen Sacher Punch comunque aveva messo Sweet Dreams comunque poi vai a casa hai una buona discografia delle buone canzoni da ascoltare inizial film non ho trovato musiche eclatanti non c'era questa opening particolare del suo stile e quindi effettivamente anch'io l'ho notato parlando di stile una differenza che poi non troveremo nei film successivi perché poi cambia tutto anche i colori io sono dal tonico quindi quando parlo di colore è sempre molto soggettivo però mi sembra completamente diverso a livello di colorazione non so voi che lo confermo a voi che vedete ovviamente meglio di me è molto più è spento no? la saturazione arriva proprio sì è molto più saturo è molto più virante anche al seppente per esempio la grande scena d'azione a Smallville nonostante sia in piano giorno sembra quasi al tramonto sembra quasi seppia a un certo punto la luce c'è un commento in chat che mi ha fatto un po' sorridere lo stile documentaristico l'ho letto anch'io l'indagine di Lois assolutamente coerente quindi in tutti i film in cui c'è un giornalista la telecamera fa così no anche perché fondamentalmente le scene in cui viene applicato questo tipo di stile sono quelle senza Lois però io se posso dire questo stile e poi è una cosa molto soggettiva però l'ho apprezzato molto mi è piaciuto molto questo stile io ieri rivedendolo anche il combattimento finale da tanti giudicato confusionario io durante il combattimento finale caspita ero lì anche sorpreso dalla meraviglia secondo me degli effetti visivi perché secondo me sono bellissimi gli effetti visivi in questo film gli effetti sono discreti secondo me la miglior scena d'azione del film è il combattimento a Smallville perché comunque riesce a integrare in un contesto ristretto un senso di azione un pochino più ampia poi anche in quella scena ci sono certe minchiate che insomma non riesce mai a risparmiarsi però è sicuramente una via di mezzo fra io mi ricordo quando l'ho rivista un paio di sei settimane fa che a un certo punto allo scontro di Metropolis proprio non riuscivo più a distinguere cosa stesse succedendo davanti ai miei occhi a me questo va per accumulo e a un certo punto ho fatto no ok non vedo l'ora che esploda tutto si picchi con Zod e muoia Zod a me il combattimento in quanto tale tra Superman e Zod è sempre piaciuto il problema lì è la discontinuità con la prima parte del film cioè sembra veramente una pellicola frutto di due esigenze diverse sia dal punto di vista contenutistico ovvero decostruisco Superman ma non ti preoccupare che alla fine torna quello di sempre quindi forse lì c'erano già gli scontri Snyder produzione azzardo non vedo perché però non vedo perché dovrebbero cioè ma basta giustificare Snyder sempre per cura della produzione no ma non lo voglio giustificare da qualcuno di vista però sembrano proprio due esigenze diverse cioè da un lato voglio dirti no guarda che Superman qui lo facciamo un po' più cupo c'è Jonathan Kent che gli dice no trattieniti però alla fine viva e poi anche a livello di sviluppo narrativo prima parte molto introspettiva può funzionare a seconda dei gusti però sicuramente c'è un tentativo di analisi del personaggio e poi da un certo punto in avanti ok da adesso possiamo fare le scene action e via di casotto io forse preferisco la seconda parte addirittura io lo devi dire a blocchi proprio atti perché se ci fate caso i primi 20 minuti sono tutti sul pianeta cioè vediamo effettivamente i genitori è lunghissimo su crypto a me piace quella cosa lì perché c'è un po' di world building è colorato e poi arriva con la fase flashback che è il secondo atto che inizia un po' a spiazzarti perché hai avuto effettivamente un inizio che io ero gasato a vedere quella parte che ho detto finalmente che vediamo la distruzione del pianeta è anche emotivamente ad impatto secondo me perché lo stanno lasciando andare c'è il colpo di stato che effettivamente non sta in piedi per come è scritto e effettivamente anche lì dicevo ma perché tu li stai mettendo nella zona che sai che ci salveranno cioè a quel punto speravo una soluzione un po' diversa però va bene quanto meno prima che il pianeta esploda riporta lì giù quanto meno è quello tutto molto veloce non si è ben capito le tempistiche però è la parte che del film apprezzo maggiormente insieme al combattimento finale e poi arriva una parte che ti blocca ed è molto lunga con il flashback vai avanti vai avanti vai avanti vedi molte scene di vita che dirò ho apprezzato alcune però avevo visto Smallville e mi è sembrato un pochettino il recap non so se avete capito la cosa però io che guardavo Smallville da ragazzino alla tv è un po' troppo ridondante anche perché era arrivato nel 2006 quindi sette anni prima comunque già Superman Return di Bryan Singer volevo qualcosa di diverso un Superman già pronto non rivedere di nuovo tutte le origini eccetera che già si conoscevano l'ho vista questa cosa proprio per quello ti dico che secondo me l'intenzione era proprio rifare la trilogia di Nolan primo film di origini secondo contro il grande cattivo Luthor presumibilmente e bene o male hanno provato a farlo e poi atto conclusivo che non sarebbe terminato con la Justice League ma io volevo volevo finire il discorso di prima e poi mi allaccio a questa parte sull'inizio del film no prima ho risposto tra virgolette stizio nel senso sta cosa che ormai Snyder va capito sempre perché ha avuto dei problemi con la produzione quando si lavora a un certo tipo di film i compromessi esistono sempre assolutamente su un film può andare male e possono finire i rapporti quando poi rimani per altri 6-7 anni a lavorare con le stesse persone o non hai capito come funziona Hollywood o ti va bene lavorare così le cose sono due quindi insomma sul primo film appunto c'è parliamo ancora di legittimo dubbio comunque perché secondo me la prima parte su Clinton è la migliore non solo di Man of Steel ma di tutto quello che ha girato per il DCU Snyder perché proprio a inizio film ti dà quel senso di world building che al cinema probabilmente in maniera così organica o almeno dopo quello di Donner la mitologia di Superman non aveva avuto ed è lì che tutte le mie migliori esperienze poi sono morte perché a parte l'iconografia legata appunto alle origini che ormai conoscono tutti dal mondo di Superman tutto quello che viene costruito sulla base di quelle origini è assolutamente discutibile come l'abbiamo discusso finora però quei primi 20 minuti su Clinton oltre a essere visivamente molto interessanti ti facevano sperare una buona costruzione del background che poi portasse a un personaggio a tutto tondo cosa che poi appunto come discutevamo dal mio punto di vista non è mai arrivata tanto Leonardo va a parare sulla colonna sonora per me una grossa assenza la fanfara di Williams però Zimmer se l'è cavata davvero molto bene io apprezzo molto la colonna sonora di questo film anch'io sarà che nel mezzo dell'esaltazione l'avevo spolpata già prima di vederlo in sala ma l'ho sempre apprezzata compreso il tema il tema è molto molto bello Zimmer che dice anche se negli ultimi anni secondo me un po' ha iniziato a ripetersi che non è sicuramente uno stupido ha capito che non poteva mettersi a combattere diciamo la leggenda John Williams è andato all'opposto al contrario della grande fanfara si è creato un tema minimalista al massimo composto di due o tre note che si ripete a oltranza nel film grazie a Dio non come la vocalizzazione di Wonder Woman nella Snyder Cut ma vabbè poi ci arriveremo le parti d'azione sono un po' generic rova però per quanto riguarda la parte emotiva del personaggio buona parte dell'iconografia legata a Superman funziona grazie alla colonna sonora di Zimmer paradossalmente il grosso problema di Superman Returns che ripeto io trovo un bellissimo film molto sottovalutato era proprio l'aver ripreso in mano una mitologia così vecchia da un certo punto di vista ma anche molto radicata nel pubblico come quella di Donner John Williams e Christopher Reeve quel film secondo me non ha funzionato perché i più giovani non hanno capito a cosa si riferiva quella roba là perché altrimenti è una versione di Superman 100 volte più interessante di questa chiedo a Paolo e Emilio cosa ne pensano della colonna sonora di Zimmer a me è piaciuta tantissimo veramente c'è quel motivetto ogni volta che viene presentato anche Superman specialmente quando scopre i suoi poteri e i vari anche momenti sul finale che proprio mi colpisce e mi conquista ogni volta quindi un ottimo lavoro da parte di Hans Zimmer sì 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 sono d'accordo Emilio io ragazzi concordo con voi poi non ho una grande cultura musicale quindi non posso argomentare di più mi è piaciuta soggettivamente mi è piaciuta molto quindi concordo che esalta il supereroe intanto ringrazio Stitch Stark per la donazione e poi secondo me in questo film scusami Mattia se ti ho interrotto perché prima Victor aveva detto una cosa aveva detto che secondo lui a parte Giorelle i personaggi non è che fossero proprio scusa Zod ora non ricordo che aveva Zod secondo me invece sia Russell Crowe Giorelle sia Kevin Costner nonostante quella scena lì i personaggi riescono subito ad essere accattivanti dalla prima volta che li vedi cioè io quando mi sono trovato di fronte mi ricordo proprio in sala Giorelle Russell Crowe e Michael Shannon ho detto caspita cioè ho visto proprio una sfida tra due bravissimi attori e mi sono subito rimasti nel cuore questi due personaggi quindi non so se è solo una mia cosa soggettiva però per me infatti la prima parte su Krypton paradossalmente secondo me sarebbe dovuta durare di più perché lì ti sbatte tantissimi elementi sul tavolo fate conto che in 15-20 minuti c'è tutto ti presentano il pianeta ti presentano i personaggi sono amici no? viene tradito e Superman deve partire e ci sono i papaveri del pianeta che non credono a Giorelle poi mandano via Zod poi però Zod si dice è un casotto i falli e i spaziali ma lì secondo me c'è veramente l'idea più bella del film oltretutto i kriptoniani sono geneticamente strutturati per adempiere un solo scopo Superman può essere quello che vuole secondo me veramente l'innovazione nella mitologia del personaggio più interessante infatti per me non è un film fatto solo di ombre ci sono anche degli aspetti convincenti avrei gradito un maggior approfondimento della questione ovvio che su un film così lungo non potevi dare 40 minuti a Krypton lei ha perfettamente ragione Victor quando dice che io ribadisco non sono né un hater di Snyder né di questo film né dei successivi che mi piacciono ancora meno paradossalmente però lì quando vedi che già è un film che deve essere la tua base narrativa per un mondo che decidi di costruire tante cose non piccole importanti a livello drammatico non funzionano o ti metti a sedere fai una bella riunione e capisci come si può lavorare per risolvere determinati problemi o appunto poi si sa come va a finire ragazzi stamattina riguardandolo effettivamente ha detto la prima parte i 20 minuti sono bellissimi funzioni è evidente che abbia tagliato parecchie cose quindi mi è arrivato il pensiero ma non poteva fare un reboot fai partire direttamente da lì non so fa vedere meno steel cut esatto facciamo meno steel cut ti prego non lo dire se no partono meno steel è cripto meno steel è giorelle mi parte da lì alla fine mi vedi il super ma io ad origine di superman le so vorrei vedere effettivamente qualcos'altro poi me lo fai magari come prequel di quello che è già uscito superman returns non lo so qualcosa di diverso almeno avrei guardandolo stamattina ho detto avrei davvero voluto vedere questo poi magari zod finiva alla fine la mi fai vedere dark side alla fine nel titolo di coda un po' in un progetto ampio ma pensa che prima di dell'uomo d'acciaio sono andato un po' a documentarmi anche su quelli che sarebbero dovuti essere i film c'era quello oltre a quello c'era mark miller che aveva contattato un regista per dirigere questa trilogia di superman che si sarebbe dovuta ispirare al signore degli anelli e al padrino dove in ogni film si mostrava ovviamente la creazione la nascita fino alla morte di superman con lo spegnimento del sole sarebbe stato molto epico da quel che ho letto e sicuramente una trama del genere sarebbe stata molto figa perché avrebbe proprio mostrato l'inizio e la fine e poi non sapevo che prima di arrivare alla realizzazione dell'uomo d'acciaio veramente fossero passati anni e anni se ne parlava dal 2008 con tanto di Ben Affleck che forse era anche uno di quelli che avrebbe potuto dirigere questo film ma che poi si è tirato indietro perché non sapeva non riusciva insomma ad avere a che fare con gli effetti speciali ancora quindi c'è una lavorazione anche molto travagliata tra l'altro Ben Affleck che aveva da poco vinto la Coppa Volpi a Venezia proprio nei panni di su o meno comunque dell'attore per Hollywoodland sì esatto sarebbe stato diciamoci la verità tutti vorremmo vedere Nicolas Cage che fa Superman quello è nient'altro per tutta la vita dai diretto da Barton assolutamente assolutamente allora la morte di Zod che già stata appaventata prima qui ritorniamo a quello che vi dicevo all'inizio in sé per sé liquidiamo subito l'aderenza ai fumetti come percorso come percorso di origini ci sta che il personaggio sia costretto a prendere una decisione estrema che poi conduce a delle conseguenze magari una rivelazione mi piace anche il fatto che urli dopo averlo ucciso il problema è sempre quello c'è uno stacconetto di montaggio si passa ad altro e non si capisce quali conseguenze o quali riflessioni ha tratto Clark da ciò che è accaduto vi rispondo io nessuna vedendo come andrà avanti l'universo no ma non solo c'è uno stacco c'è uno stacco a una gag che è come dire che dopo la morte di Boromir ci sono Mary e Pipino al Cine di Danelli che si ubriacano e fumano erba pifa cioè capito è gravissimo che questo mi distrugge la mitologia del personaggio comunque mi rivede Superman in questo mio universo narrativo può uccidere perché ancora in questa fase del suo sviluppo non ha ancora raggiunto una maturità più alta perfetto io non ho mai avuto un problema a quel collo perché ripeto i film sono i film i fumetti sono i fumetti si chiamano adattamenti perché prendi del materiale e lo adatti a un altro medium ci mancherebbe altro il problema è che dopo quell'urlo lì io mi aspetto Clark che prende a pugni gli iceberg fuori dall'astronave barra fortezza della solitudine mi aspetto Clark con il costume strappato nell'appartamento di Lois che cerca aiuto psicologico con il supporto da lei o da sua madre no stacco è un film che dura due ore e venti sei minuti in più non avrebbe cambiato un gran che perché ormai i blockbuster due ore e mezzo li durano in agilità stacco Marsha Manante nel deserto con la soldatessa pum e questo arriva fuori dalla polvere non vorrete mica vedere tutti i giorni quello che faccio non mi rompete le palle ragazzi ma il mio senso no il senso te non puoi far arrivare a un punto morto dello sviluppo perché il tuo senso è un sviluppo emotivo e psicologico del protagonista non di una secondaria di Superman di un'icona protagonista del tuo film e farlo seguire da una gag e quell'episodio lì non riprenderlo né lì né nei film successivi cioè quel momento lì dovrebbe essere un momento topico della vita di Superman e di Clark non se ne fa mai più parola è di una gravità drammatica incredibile e mi dispiace che Victor non ci sia perché recentemente abbiamo dibattuto su questa questione la morte di Zod a parte che a me non ha dato neanche fastidio perché anche nei fumetti è una delle poche uccisioni che ha fatto magari hanno anche letto qualcosa ma è la rinuncia completa di Superman al suo retaggio criptoniano esatto ok mi spiego sicuramente Zod era uno stronzo però era l'unico sopravvissuto del suo mondo cazzo esatto però in quel momento con quell'uccisione Superman decide di essere umano esatto per quanto ne sa lui ha appena ucciso l'ultimo membro della sua specie lo uccide lui anche la scena in cui distrugge la nave compiendo un genocidio a conti fatti cioè tutti gli embrioni lui le compie uno sterminio sceglie perché però questo elemento non viene evidenziato dalla sceneggiatura cioè è importante soprattutto nel contesto di un film di origini non solo viene sminuito dalla sceneggiatura tu li hai due scelte salvare la terra che un pianeta che non è mai abbracciato del tutto fino a quel momento almeno sulla base degli insegnamenti di tuo padre oppure cercare di capire il punto di vista di questo criptoniano magari cercare un compromesso oltretutto non si capisce perché Zod voglia in maniera specifica la terra quando poteva andare altrove perché c'è Calè quindi gli voglio rompere i coglioni potrebbe alla fine lui compie una scelta decisiva ma la cosa non viene approfondita e potrei capirlo in un film di grande intrattenimento che vuole essere superficiale ma visto che tutta la prima parte invece che ci riesca o meno punta a sviscerarmi questo personaggio e poi arriva il momento decisivo via è lo stesso ragionamento che avevamo fatto con Paolo in una sua live il mio problema appunto con Zack Snyder è questo che secondo me lui come regista di intrattenimento potrebbe essere un maestro se rinunciasse a voler essere un autore cosa che non è che non può essere non è nel suo DNA lui non riesce a prendere delle tematiche serie a sviscerarle è un dato di fatto se lui si limitasse a raccontare storie spettacolari una leggerezza o due di scrittura gliele perdoneresti capisci solo una puntualizzazione va sulla terra perché la chiavetta usb ci aveva Clark si poi poteva andarsene però cioè ha recuperato quello che voleva poteva andarsene io ti lascio in pace fratello di Krypton no sei il figlio del mio nemico poteva prendere quello che voleva e andare su Saturno il codice dentro di il codice per ricreare il tutto è dentro il corpo di Clark prendi Clark e lo porti da un'altra cioè ma non era facile però vedi Mateoschi queste sono le leggerezze di scrittura che non ci ne fumento accetti assolutamente non è un grave problema può anche stare che lui decida come prova ultima no invece io rendo la terra tuo pianeta un po' la Dragon Ball rendo la terra la nuova Krypton ma perché un po' Dragon Ball perché Dragon Ball la sua volta si rifaceva Superman in maniera dichiarata quindi però se posso dire la scena dell'urlo è talmente incisiva sul finale che una qualsiasi scena in più avrebbe reso ancora più di da scalico un qualcosa che già era arrivato pienamente no Paolo perché è lì l'icona se è vuota è un'immagine se io posso far vedere Clark che si strappa il costume di dosso e urla in silenzio ma se la scena dopo è Clark che salva un gattino sul labio faccio quindi l'immagine è anche bella ma è vuota di significato ti dico Paolo che ovviamente non è un elemento a favore o contro però recentemente mi sono trovato a discutere proprio di quella sequenza ecco e molti mi hanno detto lui urla perché la famiglia è morta ma non è vero me l'hanno detto in tantissimi lui lì non urla alla famiglia umana sì 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 alcuni mi hanno detto lui non urla perché ha ucciso Zod ma urla perché è morta la famiglia umana no dai ovviamente non è un elemento a favore o contro il dibattimento però secondo me la cosa simboleggia anche la poca chiarezza del tutto perché non c'è proprio tempo per riflettere sulla cosa e io all'epoca della prima visione mi ero detto in realtà sarà una scena cruciale vedrete che da lì in avanti non ucciderà o comunque avrà preso qualcosa avrà sentito il contraccolpo del trauma ammazzato ma anche invece neanche per idea ma la famiglia non l'ha salvata ma certo certo che l'ha salvata però non so alcuni cosa abbiano visto ci dicono in effetti non fanno vedere cosa è successo alla famiglia ci dicono ma si vede what if proprio si vede il raggio che sta per andare contro la famiglia è sempre forse sarebbe ancora più grave il fatto che non rimane sconvolto dalla morte di una famiglia infatti ci dicono io non voglio andare oltre non uccide in Batman di Superman e Justice League in effetti in Justice League prende solo Steppenwolf glielo getta Wonder Woman che lo decapita tutto questo ridendo no no non solo e mentre questo è a terra tramortito continua a colpirlo come fosse un punching ball cioè ricordiamolo quella è la Snyder Cut nella versione di Widow non uccide quella di Snyder sì poi ci arriveremo io capisco ripensando forse capisco però cioè se ci fosse stata una scena in più che magari il tutto sarebbe potuto essere più d'impatto non lo metto in dubbio però soggettivamente a me anche la scena dell'urlo è risultata molto incisiva la scena dell'urlo anche in Batman di Superman c'è il terrorista che gli tira un colpo che quello non sta benissimo ragazzi no all'inizio nel copolo vola nel muro all'inizio non sta troppo bene visto come se l'è cavata il compagno di nuovo capitano americano l'ultima puntata su una colonna quel ragazzo non sta benissimo esatto esatto secondo me non è in forma Emilio no a me il finale con Zod non dà effettivamente fastidio che l'abbia ucciso e tutto il resto però adesso ripensavo a Tarantino a Kill Bill il volume 2 che c'è per appunto la frase chi secondo me spiega bene Superman che fa tutti gli altri la mattina Spider-Man si sveglia e Peter Parker mette il costume e diventa Spider-Man Superman si sveglia che è Superman mentre Clark Kent praticamente lui è il suo costume esatto il suo costume lo caratterizza in modo diverso perché poi a livello di fumetti o simbologia sarebbe un po' diverso da quello che si vede Tarantino però qui effettivamente io capisco che ho detto Paolo che arriva il messaggio però anche alla fine che lui arriva lì sono Clark Kent vengo a lavorare a Daily Planet è più forte la frase di Tarantino messa lì in un contesto che è quello che sto vedendo cioè non mi arriva così forte questo infatti nell'ultima nell'ultima revisione quel finale così ammiccante mi ha saputo visto anche poi come fondamentalmente non ha grossi sbocchi se non molto pretestosi nel film successivo della serie dobbiamo dare al pubblico il Clark Kent occhialuto al giornale perché è veramente una roba buttata lì per i fan e basta io capisco che Matti Ossi e da lì abbia detto invece è da qui adesso lui cambierà perché invece no abbracciare quindi capisco anche che ha visto poi io pensavo anche un'altra cosa io credevo avessero compiuto una scelta quella sì coraggiosa a mio avviso cioè più che dire no è coraggioso fare Superman Dark ma abolisci una volta per tutte sta menata dell'identità segreta perché già in un contesto fantastico è un po' strana e nei fumetti gli hanno dato mille giustificazioni tra l'altro ora nei fumetti si è svelato da qualche mese ma addirittura in questo contesto che vuole essere nell'ambito di un film di fantascienza abbastanza realistico nelle dinamiche come puoi credere che non lo riconosca e questo vada lì con gli occhiali e non lo riconosca nessuno è una minchiata apocalittica oltretutto c'è una scena qui in cui sia Lois che Perry White lo vedono bene Superman cioè lì davanti lo vedono benissimo io pensavo che alla fine stessero fingendo cioè che la sequenza fosse lui che arriva loro che lo ammiccano un po' sì 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 a umma umma in realtà no perché nei film successivi Perry White non sa di avere lì Superman Lois ovviamente lo sa Lois lo sa Perry White non capisce niente proprio quindi quella sarebbe stata quella sarebbe stata una bella scelta secondo me in questo universo narrativo Superman ha l'identità segreta e anzi il fatto che nonostante lo sappiano tutti lui decide di svolgere una professione molto umana avrebbe anche caratterizzato in maniera secondo me interessante e per questo che dicevo che secondo me ci sono state due anime da un lato innoviamo dall'altra no però alla fine devi mettere quello che vogliono tutti cioè lui che diventa il giornalistino lui che sta con Lois solo lei sa di lui ammazza però è dispiaciuto allora forse dopo non lo fa più e infatti mi avevano anche tratto in inganno all'epoca Victor dopo mezz'ora di discussione ci siamo tutti ricreduti e troviamo un capolavoro l'uomo d'acciaio immaginavo sono qui sono qui per riportare le cose alla normalità no ragazzi in Batman di Superman non lo sa nessuno che Clark è Superman mi spiace non lo sa nessuno è la mamma avete già parlato di Perry White che ce l'ha a 20 centimetri e alla fine non lo riconoscio quello che dicevamo ora dovrebbero fare come nell'MCU e abolire questa cosa dell'identità segrete perché è un difetto che è sempre servito in anni e anni di questi film però ormai oggi come oggi proprio mostra la stupidità umana nel non riconoscere roba che se lo portano al carnevale lo perdano se i genitori lo portano al carnevale lo perdano perché è assurdo no attenzione in chat possiamo non inventarci le cose Perry White non sa che lui è Superman non lo sa non si intuisce da nessun dialogo non è una cosa che si intuisce è una cosa che o si sa o non si sa l'hai intuito tu perché volevi spiegarti questa minchiata e ci sta ma assolutamente non lo sa e dimostra di non sapere più di una scena per favore no perché no perché no no fermi è importante è una cosa in generale è importante importantissimo che una cosa si sappia non perché la sia intuita perché se la si è intuita per i castelli in area propri vuol dire che allora è l'opposto mi dispiace o l'han detto o non l'han detto non esiste si intuisce in un dialogo perché non c'è nessun dialogo ha fatto quell'occhiata ha fatto quell'amico ma non è una cosa che cosa c'entra ma no dai se lo sapesse nascerebbero molte altre dinamiche più interessanti lui che lo prende da parte è lui che gli chiede di risolvere una situazione che sarebbe stato non vuoi rendere l'identità segreta manifesta a tutti almeno un manipolo di persone boh 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 quindi è un peccato quello è il vero peccato secondo me poi mi sono chiesto e qui voglio sapere il vostro punto di vista ma perché questo personaggio che comunque cercano di approfondire nella prima parte questo Clark mi sembra freddo perché lo è lo è secondo me uno dei problemi è il fatto che questo Clark non si ponga domande cioè lui a parte che scopre di essere un criptoniano molto casualmente cioè l'unica cosa che ha fatto Giorella è stata dargli la chiavetta USB e ma che ci faccio cioè se non avessi saputo per caso nel bar che avevano trovato un'astronave se io mi ci fossi recato a caso a lavorare è la cosa che mi dà più fastidio nella prima parte del film cioè tutto quello che succede lui diventa Superman solo perché ha un'intuizione poteva dire a Giorella caro Giorella se me l'avessi fatto capire cinque anni prima magari avrei salvato anche il mio padre adottivo a stronzo però vabbè lo scopre veramente per caso e quando si aggira in quest'astronave quando si interfaccia con Giorella accetta tutto molto passivamente non è non sembra quasi una parte non sembra interessato lui subì si prende tutte le informazioni le immagazzina tanto è vero che poi il momento che ha citato Victor di non nominare mia madre alla Zekila paradossalmente il primo momento in cui questo personaggio dimostra un'emozione dimostra un'emozione è vero è vero finalmente sia bello anche a me è piaciuto anche il primo volo col sorriso posso farti una domanda a riguardo è una cosa che ci chiediamo sempre con mio amico Daniele Misischia secondo te la barba se l'è fatta fermandosi al bagno o gli cade appena si mette il costume di Superman per necessità sceniche perché quella fa molto ridere il fatto che uno entra con la barba e poi diventa Superman e non ha più la barba ragazzi fa molto ridere non ha fuggito tempo per salvare poi farsi la barba veloce ce l'ha fatta con rasoio cricciognano perché lì ti devi immaginare due cose o che gli è cascata appena è diventato Superman perché l'icona è l'icona o questo si è fermato a farsi la barba nell'astronave ragazzi e fa molto ridere in entrambi i casi per farvi capire è un po' come il capitanoncino che ha il costume all'improvviso però lì la tonalità da fiava già quasi me lo fa accettare io credo che abbiano voluto renderlo un personaggio problematico anche e qui è una polemica tra me il sottoscritto io sono abbastanza convinto come Noaro e bravo sono abbastanza convinto che vedendo anche quello che è successo dopo la Warner un po' non sia convinta dei propri personaggi cioè non si è convinta esattamente di ciò che sono e allora devono andare a presentarteli in maniera cupa perché con Batman ha funzionato grazie tante è l'unico cupo che hai nella Justice League quindi sì che funziona ma tutti gli altri così come sono non piacciono quindi ok mi vuoi fare il Superman introspettivo però paradossalmente io dovrei percepire una sorta di affinità con questo personaggio combattuto invece per me è glaciale Superman in questo film ma infatti sembra quasi che Superman sia una marionetta nelle mani delle volontà dei due padri è vero sembra che semplicemente gli venga detto fai questo fai quest'altro e non sappia però per me è una cosa è un pregio per me questo perché no perché drammaticamente non ha uno sfogo questa cosa si sveglia e dice no devo fare la cosa giusta e ammazza uno io sarò ripetitivo però mi fa ricordare la contraddizione umana cioè mi ricorda il personaggio non è umano ma proprio per questo lui stando sulla terra da tanto tempo noto che il personaggio non sapendo ancora chi sia chi dover dare ascolto cioè si ponga delle contraddizioni che tutti noi abbiamo e questa è una cosa che ho sempre apprezzato il fatto che lui ancora non sappia cosa fare della propria vita poi nel concetto di Snyder il fatto dell'individualismo è sempre al centro di tutto il prima cercare di capire chi siamo noi per poi aiutare gli altri ed è una cosa che può essere assolutamente criticata spramente però sinceramente per me è il motivo per cui però Paolo questo non funziona per quello che diceva prima Mattioschi ovvero che a questa fase di costruzione del personaggio dovrebbe seguirne una della maturità che in tutti i film successivi mai arriva questo qualsiasi cosa faccia in tutti i film del DCU lo fa posso fare un salto in avanti o è proibito Mattioschi ragazzi si può fare in maniera molto sbrigazionale velocissima cioè ha la stessa immoralità all'inizio e immaturità di quando davanti a un uomo in armatura in Batman v Superman invece di fermarlo e dirgli devo parlarti e spiegarti come saranno bene le cose la prima cosa che fa è che lo vola 40 metri con un pugno è sempre il solito pazzo cioè non ha mai uno sviluppo il supereroe imperfetto funziona se poi ha una sua evoluzione e raggiunge la maturità questo rimane un pazzo dall'inizio alla fine della saga perché anche negli altri film poi fa sta roba qua volevo tra l'altro collegarmi un attimo alla domanda di Mattioschi e citare quella di Paolo cioè la Warner che non ha capito bene i suoi personaggi ed è evidente perché Paolo prima ha citato i vari film che c'erano prima di questo era uscito quello di Singer che comunque era piaciuto ma la Warner non voleva portarlo avanti perché fino al 2008 si era parlato per l'appunto di un sequel di quel film ma si vede che era troppo luminoso volevano proprio emulare Batman Begins quindi portare questa oscurità e io ripeto io condivido quello che avete detto quello che si può trovare anche in chat leggevo però Superman Returns era stato un floppettino sì esatto a livello di critica meglio di questo ma soprattutto Superman Returns è stato concepito e girato prima dell'uscita di Batman Begins e nel 2008 è uscito Iron Man quindi queste due cose insieme palesemente hanno dato le linee guida dal 2008 in poi di come andava fatto un cinefumetto sono d'accordissimo quando si parla dell'incompetenza della Warner ma guarda io che leggo tanti fumetti ti dico in questo momento anche la DC non sta capendo molto i suoi personaggi perché io che leggo tanti fumetti vedo molta confusione nel piano editoriale semplicemente al contrario dell'altra squadra che manco voglio citare sembra che vogliono lavorare graniticamente su un'estetica e che ha funzionato una volta e su dei concetti assoluti che non riescono a declinare in maniera dopo tutto ragazzi se fai scrivere il tuo film al regista e sceneggiatore di Blade Trimity un problema c'è già in partenza c'è anche quello perché ha scritto Batman Begins i trattamenti degli altri due ma c'era Nolan e lì si vede la differenza ma ragazzi Dave Goyer è notoriamente uno che non è in grado di scrivere una sceneggiatura è capace è capace a scrivere i soggetti ma le sceneggiature proprio no il problema di questo film secondo me è che mettiamo in chiara una cosa se uno vuole fare un adattamento lo può fare come vuole cioè alla fine tu puoi sovvertire un personaggio quanto vuoi d'accordo però bisogna anche dire che allora a quel punto lì mi spieghi cosa cavolo fai un film su un personaggio che vuoi dire rendere commerciale per attirare fatti quel personaggio se poi quel personaggio non me lo rispetti è lo stesso è la stessa cosa che accadeva con Batman ah Snyder può far uccidere Batman quanto vuole sì non lamentatevi se poi dicono che è un Batman di merda però ok perché nel senso poi a me è piaciuto Zack Snyder Justice League ma perché perché io avevo completamente azzerato lo sdegno per loro che uccidono perché me lo aspettavo Snyder li fa così e lo accetti perché attenzione no 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 ma non voglio parlare di quello però è per far capire mi immaginavo che avremmo visto un Batman col fucile è quel Batman lì che devi fare infatti ma è quel Batman anche in quel film continua a non piacere e su questo lo dico tornando al Superman di Snyder è proprio questo appunto quello non è Superman Superman non lo puoi leggere in chiave dark e farlo rimanere Superman non puoi farmi un film su Superman con i colori desaturati perché Superman è un simbolo di speranza e ha un cazzo di costume rosso e blu che qua diventa color ciano ok cioè non puoi non puoi quello non è Superman soprattutto non puoi farmi un film così cupo con i combattimenti alla Dragon Ball stona spezza diventa sembrano due film il film si divide in due parti la prima parte è tutta sofferta e la seconda parte è tamarrissimo ma con un'estetica che non è tamarra che non sta nel tamarro sempre cupa sempre con questi colori desaturati l'unica cosa che funzionava secondo me era Zod per il semplice fatto che Zod è un villain con una motivazione molto forte ovvero nel momento in cui cioè lui non è anche su Krypton sono i cattivi perché sono i rivoluzionari ma nella sua idea lui non è non è cattivo cioè è un idealista è un fascista è un fascista fondamentalmente Zod il punto qual è? il punto è che Zod non può fare meno di seguire la sua natura perché è programmato per quello programmato per fare quello ok nel momento in cui questo distrugge la macchina terraformante e loro non possono più creare un nuovo Krypton questo va fuori di testa perché e questo è un idea molto forte non ha più uno scopo cioè lui è completamente privo di scopo e quindi va da di matto quindi ci sta a me quella cosa gli piace soprattutto un'altra cosa che non mi dispiaceva e questa è stata una non una generata ma una bella trovata il fatto che Superman fosse unico anche tra i Kryptoniani sì 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 cioè che fosse l'unico anche io prima questa è una cosa bellissima è molto bella è bella concordo perché è unico anche tra i Kryptoniani quindi non è solo non è unico sulla terra in quanto Kryptoniano in quanto alieno ma è unico in quanto diverso anche dagli altri Kryptoniani questa cosa è molto bella peccato che ci ha ficcato questa metafora soteriologica che va benissimo in sé ci sta la metafora Cristo la metafora con Cristo però io ho un grosso problema con l'allegoria di Dascalica l'Ire che va nella chiesa con le vetrate abbiamo capito che sia Gesù Cristo basta mi basta una volta non per tutto lo dicevo prima per tutto il film è a 33 anni cioè basta dopo un po' stucca sta roba della metafora soteriologica ma poi come dicevamo a me la cosa per cui uccideva Zod non dispiaceva perché non è che lo fa col sorriso è addolorato peccato che poi non si vede un contraccolpo psicologico né in questo film come nei più successivi è quello lo dicevamo prima non c'è un contraccolpo dopo la morte di Zod c'è una gag c'è una gag esatto esatto poi per non parlare adesso mi dicono che è una cosa che è più dentro al film all'adattamento ma io mi ricordo una frase filo americana per cui avrei voluto veramente tirare giù un bestemmione in sala alla fine quando parla con i militari che dice una cosa del tipo perché lui è un americano è un americano e dici ma no no cioè capito mi hanno detto però quella cosa è solo nell'adattamento italiano non ho mai avuto modo di verificare effettivamente dovrei andare a verificare in inglese però è una frase di un patriottismo inutile peraltro in un film su superman tra l'altro visto che sarebbe un alieno ma ok boh non lo so io vi giuro si salvano giusto con le due cose per il resto per me è un film inutilmente lungo noiosissimo e cioè è proprio il seme di quello che non sarebbe andato poi dopo negli altri film del DCU è proprio in parte tutto da qui secondo me io sono la frase finale che io sono un americano però alla fine superman è un personaggio iconografico americano liberale che abbraccia Clark non mi ha dato troppo fastidio ce l'ho visto anche io con le bandierone fartelo notare troppo di Dascalico ma perché dice che è cresciuto nel Kansas è una cosa del genere io sono del del Queens ci chiedono in inglese S per cosa sta per la stessa cosa non è una S su Krypton speranza simbolo però io continuo a non essere d'accordo sul fatto che quello non sia superman cioè basandosi su quel che è sempre stato superman anche nell'ambiente fumettistico cioè è proprio perché si discosta da quello che abbiamo sempre visto che secondo me è proprio il pensiero autoriale che prende il sopravvento che poi può non piacere però sinceramente io vedere una persona che soffre una persona che non comprende chi sia che quindi si pone delle domande che non ha quella sicurezza che magari poteva avere il Christopher Reeve del Superman di Donner e sinceramente poi alla fine anche grazie al dolore impara ad essere quella figura che può donare speranza al mondo intero sinceramente io non sarà lo stesso dei fumetti ma ad un certo punto dico non mi importa perché secondo me è molto meglio il pensiero autoriale che prende il sopravvento che poi si può distruggere e criticare aspramente però io mi trovo a metà strada perché da una parte sono aperto anche a versioni diverse da quelle originarie del fumetto dei personaggi ma come dicevamo prima lo ridico così visto che Victor non c'era posso capire una versione completamente snaturata di un personaggio talmente iconico se la storia in cui me lo cali ha un avanzamento psicologico e narrativo che me lo giustifica fare un Superman fondamentalmente freddo menefreghista e anche un po' pazzoide per poi farlo diventare il solito Clark Kent con gli occhialetti che lavora Daily Planet e salva i gattini sugli alberi ha poco senso proprio viene meno tutto il peso specifico di stravolgere una mitologia così amata e conosciuta perché come dicevamo prima tutte le cose brutte che succedono a Clark in questo film non vengono mai più neanche nominate non solo non hanno conseguenze sul personaggio ma passano proprio come se l'uccisione di Zod la perdita del padre a parte quel flashback orribile nel film dopo in montagna che fa anche un po' ridere sono tutte cose che sembrano quasi non pesare sul personaggio ma tra l'altro l'adattamento viene meno non c'è non ha senso mi viene in mente che settimana prossima parleremo di Batman di Superman secondo me forse anche per quello che arrivati a quella pellicola si percepisce uno stacco Batman di Superman si ritorno sembra un'altra sembra un'altra roba nonostante tutto quello che gli succede il senso ultimo di meno ostile non vi preoccupate Superman sarà quello che conoscete alla fine esatto esatto in un minuto di film dopo due ore e venti la classica la gag che menziona Michele per farti vedere vedi che però è scherzoso vedi che ha aperto i soldati dopo che ha spezzato il collo all'ultimo sopravvissuto si era l'altro capito vedi che poi va a lavorare al Daily Planet vedi che ha sugli occhialoni è quello che ti ricordavi gli abbiamo dato è una rassicurazione è una rassicurazione esatto gli abbiamo dato una genesi un po' diversa un padre sulla terra un po' più cupo un po' più orso lui molto incerto sul da farsi che non abbraccia immediatamente la sua natura ma lo fa in maniera progressiva lui che prima di diventare Superman è costretto a rinunciare completamente a Krypton facendo fuori gli ultimi membri della sua specie e forse è per questo che il film mi era piaciuto in fin dei conti l'avevo intesa come un'origin storia alternativa poi se poi vado a contestualizzarla in quello che è diventato un universo purtroppo il film perde colpi a quel punto sembra un film appartenente a un altro filone è vero qua secondo me ci ricordiamo alla discussione che abbiamo avuto recentemente dalla Slim Dogs il fatto che secondo me quella cosa di rifiutare Krypton è proprio scritta male perché il punto è questo non è che lui rinneghi Krypton è che questi qua sono integralisti sono cattivi anche su Krypton quindi il punto è non ci piove sì simbolicamente quello che dici tu ma è scritto male perché allora per farmi vedere che rinnegava Krypton dovevi farmi avere vedere lui che cancellava tutti i file del padre e c'è capito che faceva distruggeva l'astronave lì neghi Krypton l'astronave la distrugge lui ha condannato c'erano tutti gli embrioni nell'astronave lui la distrugge attenzione sì no no io parlo io parlo della sua perché quegli embrioni lì hai ragione cioè il punto è questo quella roba lì non poteva non farla perché doveva ammazzare 7 miliardi di persone non puoi farlo assolutamente però visto che tutto il film continua anche a far rimbalzare questo Superman tra il padre putativo e quello genetico alla fine c'è una scelta e quello che dicevamo prima quando non c'eri dopo la morte di Zod manca qualcosa anche un confronto con Marta con Lois ma di due minuti manca qualcosa che poteva poi darci anche il messaggio finale del film passare da uccidere a fare gli scherzi a Martian Manhunter c'è c'è un'illissima narrativa poi magari scopriremo che invece Snyder aveva pensato a tutto e gli ha tagliato secondo me secondo me da quel punto di vista non l'avrebbe più tirata fuori quella roba lì a me sarebbe piaciuto vedere quel mondo simile in justice fine ma penso che quella roba lì per il regista era già chiusa il problema è che come origin story io l'ho trovata abbastanza una cacata tra l'altro ma sì dai all'inizio vorrei ricordare questa cosa qui all'inizio lui è vagabondo ok non c'è nessun motivo per cui li faccio vagabondo in quel modo sapete qual è il motivo? volevano fare un inizio simile a Batman Begins esattamente tant'è vero che lui torna a casa dalla madre e lei ma guarda chi c'è questo magari sono sei mesi che è in giro che non si lava che sembra un barbone oh ma guarda chi si vede io gli dicevo ma questo non ho capito se n'è andato cosa ha fatto perché era lì a salvare la gente su una petroliera cioè perché cosa stava facendo c'è capito manca proprio un background è scritto in una maniera estremamente approssimativa io l'ho trovato terribile probabilmente la prima domanda tagliata dal film che li ha fatto la sua mamma dove ti sei fatto la barba ci dice Snyder da una parte di pubblico è visto come un autore che prende la sua strada che ha una sua visione da un'altra come un amante del materiale originale e un abusatore del fanservice cortocircuito sì questo è vero poi quando si parla di Snyder ci sono varie linee difensive apposto che non ne ha neanche bisogno c'è un regista che può piacere come no però è vero molti fanno riferimento a una fedeltà che invece io vorrei parlare più del film che di Snyder se dobbiamo parlare di Snyder io ti dico il mio punto di vista lui ha preso in mano tre albi li ha letti un po' male poi ha giocato ad Injustice gli è piaciuto tantissimo e questa è la sua conoscenza del materiale di base quella che dimostra almeno hai saltato il passaggio importante si è fatto scrivere la sceneggiatura di David Goyer e quindi la frittata però io per rispondere a quello che era stato detto cioè il viaggio che compie Clark lo vedo come un viaggio che gli serve per superare il tormento della morte del padre è un viaggio dove sotto falsa identità inizia a salvare le persone in vari posti per poi ogni volta che salva qualcuno scappare andare in un altro luogo per cercare sempre di trovare se stesso e capire cosa fare della sua vita ok ma Paolo quanto è durato questo viaggio dove è andato quando l'ha fatto è tutto flashback sì non c'è ma non è confezionizzato mi collego anche a Michele prima Paolo perché effettivamente fa anche il viaggio io l'ho interpretato come che lui stia cercando di redimersi della morte di suo padre anche capire chi è se stesso quindi puoi arrivare effettivamente a trovare suo padre biologico eccetera però condivido con Victor che anche io il passaggio me lo sono trovato cioè nel film mi chiedevo è quello che ho detto la prima parte mi è perciuto un casino arrivi con i flashback ed ero perduto cercavo di ricollegare i pezzi ma non capendo bene dove andavano inseriti e come anche perché se è un viaggio di maturazione ricordiamoci che a metà viaggio prende il camion di un povero disgraziato e lo pianta in un palo del telefono ricordiamoci anche questo tra l'altro perché fa figo vedere che Superman distrugge il camion di uno che avrà probabilmente perso il lavoro ma insomma per fare la battutina cioè ci sono per parlare di Snyder visto che ho una domanda secondo me non è il problema del fanservice il problema di Snyder è quello che ho detto prima quando non c'era Victor che come intrattenitore visivo di blockbuster secondo me assolutamente c'ha il grande pregio di cercare una sua impronta visiva specifica che poi piaccia o meno quello se potrebbe parlare un giorno intero dovrebbe riconoscere una volta per tutte tutte le sue carenze come narratore io inorridisco non se a qualcuno piacciono i film di Snyder se qualcuno mi dice che Zack Snyder è un maestro che i suoi film sono capolavori e non facciamo finta che non esistano perché è pieno l'internet e voi lo sapete meglio di me perché un regista un maestro un capolavoro è tutt'altra roba se lui riconoscesse come ha fatto anni fa un altro pazzo che io invece difendo proprio per questa coerenza di riconoscimento di limiti che è Michael Bay e riconoscesse ok c'ho un gusto estetico specifico che a tanti piace faccio dei film spettacolari no ci devi mettere dentro il senso della vita e i padri e le madri e il senso di responsabilità roba che lui tratta come l'adolescente emo che ascolta la musica è diversa dagli altri allora è più maturo e non funziona così ma poi tra l'altro io sono d'accordo scusami Vittor finisco la leziosità più che sui personaggi di DC si vede su Watchmen io non odio Watchmen amando il fumetto però è il bignamino portato al Cino l'ho rivisto prima della Snyder Cut mi sono rivisto proprio per fare una live con Paolo tutti i film di Snyder io che sono cresciuto volendo molto bene a Watchmen l'ho trovato di una lunghezza e di una pedanteria imbarazzante alla fine è una sequela di pagine riportate per filo e per segno senza nessun tipo di verb di verb se non tanto tanto kitsch sul grande schermo quindi da una parte riconosce i suoi limiti però una cosa che volevo dire è che qualcuno in chat ha detto quel viaggio è sottinteso che sia durato anni no non è sottinteso perché il punto è potrebbe anche essere certo che se tu dopo anni e levi a casa tua madre fa oh ma guarda chi si vede l'ultima cosa che penso è che è durato anni sembra che è partito la settimana scorsa se io sparisco per due anni e torno a casa mia madre mi scoppia a piangere mi abbalaccia le ginocchia perché magari pensava che fosse morto un'altra problematica che secondo me vedremo meglio nei film successivi visto che poi appunto la donazione è anche abbastanza cicciona era su Snyder secondo me lui molto spesso inventa un'immagine anche molto bella visivamente ma non sa come arrivarci cioè l'immagine in sé è bellissima sarebbe bello se avesse anche della sostanza però sono d'accordo perché effettivamente lui ha quella visività comunque anche d'impatto insieme a vedere questi supereroi qui che sono praticamente scolpiti perché sono marmori ragazzi sono icone sono icone ci stanno come icone io su questo niente da dire il costume di Superman ve l'ho detto subito all'inizio a me piace in questo film esalta tutta la corporalità che Superman dovrebbe avere però poi si perde in tutto il resto come abbiamo detto che dovrebbe avere un attimo più introspezione psicologica perché non basta solo l'immagine se mi prendo il poster me lo prendo dietro è quello che dicevamo prima l'urlo silenzioso è un artificio visivo espressivamente molto forte deve avere un significato se no mi guardo una tavola di un fumetto di John Byrne che ha cento volte più potere per chi intorno ha una leggenda ora ho detto un nome grosso ma anche la finezza della barba che scompare perché secondo me perché lì c'è Superman che vola o deve essere sbarbato appunto ma com'è che tu arrivi lì con la barba fa niente a lui non interessano queste cose lui vive di icone quello che non ha capito è che l'icona vuota è semplicemente un oggetto questa è un'icona è una penna non è per niente mitica cioè nel senso serve per scrivere ultimo difetto che secondo me non abbiamo ancora menzionato è che non c'è il senso of wonder in questo film non c'è il senso della meraviglia posto che non era per forza strettamente necessario però tutti i personaggi c'è non solo Clark anche tutti gli altri sono molto passivi cioè alla fine è un film in cui l'umanità scopre che ci sono gli alieni che c'è un protettore della terra e il problema è fare un titolo da prima pagina un po' anche questi soldati che scoprono che c'è un'astronave lì nei ghiacci o siamo in un mondo all'X-Files dove il governo sa già tutto e nasconde le prove oppure cazzo è una scoperta incredibile anche questa Lois come diceva Victor che vede il tizio lì a petto nudo però che figo e tu chi sei? ragazzi così come fa ridere è vero che poi anche lì usi una immagine forte solo a scopo di una gag ma le manette a Superman no ragazzi cioè puoi essere l'esercito più stupido del mondo lo so che lo sapevano so cosa stai per dirmi Paolo che lui si fa mettere sì lui ma perché le l'hanno messe loro visto che è arrivato in volo cosa pensi che gli faccia un paio di manette magari in realtà un fuscello anche in quella situazione però è vero cioè ti arriva un alieno davanti non sai cosa fare nel tuo piccolo la massima resa è magari mettere delle manette nel tuo piccolo o sparargli un cannone addosso no quello è lui con Button no io ho un altro grosso difetto che trovo in questo film che poi si porta avanti la serie chiamiamola così dopo io credo che pochi personaggi mi risultano insopportabili come la Lois Lane di Amy Adams un'attrice che a me piace tantissimo allora innanzitutto una nota di colore che mi si permetta io non ho mai visto Amy Adams così brutta sullo schermo è una donna bellissima è una donna bellissima oltre che una grandissima attrice come la riprende male Zack Snyder io non l'ho mai vista ripresa veramente è più o meno uscito in contemporanea quella americana anch'io ebbe una delusione perché effettivamente era una donna bellissima anch'io l'ho vista in American Assault esatto e non so se era per i colori che aveva effettivamente quei capelli che risaltano qui dissaturandolo ma anche a me mi sono trovato la stessa attrice in un personaggio che non mi piaceva e visivamente c'era qualcosa che non mi sembrava ma io credo che sia legato proprio non tanto alla persona ci mancherebbe altro ma proprio come decide di impostare il personaggio lui è sempre accigliata è sempre in sofferenza è sempre arrabbiata con il sistema che non si capisce poi qual è il sistema che non funziona intorno al suo giornalismo visto che fa sempre quello che le pare è proprio un personaggio che non ho mai capito come l'abbia impostato concettualmente veramente e anche Lawrence Fishburne è abbastanza in colore pur essendo un grande attore ma lì è il personaggio io leggo una super chat a parte che probabilmente era un pesce d'aprile cioè vabbè qualche no magari tiro in causa anche Victor perché non so qualche qualche youtuber lo hanno ammesso poi si sono accaniti contro questo film e tra un compenso ma era il tuo pesce d'aprile eh mi sa di sì potranno poi ma sai cosa è la cosa divertente la cosa divertente è che io per evitare commenti come questo allo scattare della mezzanotte del 2 aprile cambio il titolo contraparentesi scritto pesce d'aprile e l'anno quindi se tu vuoi vedere quel video c'è scritto pesce d'aprile 2000 e non mi ricordo non credo riferendo a pesce d'aprile in caso contrario nessuno è stato pagato nessuno è stato pagato ma figurati ma se pensi che nel post che hai fatto su instagram lo hai anche scritto tra le righe e la gente ha commentato anche di essere pagato per parlare di un film uscito quasi 10 anni fa voglio vedere che investimento sarebbe insomma infatti un caso in cui ambra solare si stesse riferendo a qualcun altro fonti perché altrimenti parlarne senza sapere io non sono un nuovo youtuber e di sicuro non ho parlato bene di man of steel più di quanto ne ho parlato e senza sapere quello che è stato detto è molto c'è una bomba buttata lì senza costrutto se ci sono delle prove alla base ne discutiamo altrimenti non vale se qualcuno vuole pagarmi io accetto io accetto qui ragazzi se c'è qualcuno che vuole offrirmi soldi accetto no ho visto però ho visto io effettivamente vedo anche leggo sul tuo instagram c'è gente che non legge tutti i post se legge solo poi commenta quindi per quello capisco quante persone e mi fanno ah così però è una cosa sbagliata perché così fai passare le persone per stupido no veramente sei tu che passi per stupido da solo perché io le informazioni per capire che non puoi sapere te le do se non leggi non posso farci niente io l'ho scritto non sono d'accordo perché se è quello non lo leggiamo era evidente quindi comunque vi domando c'è qualcos'altro che volete menzionare nei riguardi del film oppure andiamo verso la chiusura io dico solo che se non avessi rivisto stamattina tranne proprio due cose non mi era rimasto impresso niente cioè i flashback sono tutti così accelerati poi li dimentichi non c'è niente che effettivamente mi dica d'impatto la morte di Zod la morte di Jonathan ma negativamente ti rimangono d'impatto o l'inizio ma poi tutto il resto c'è una parte dal 20.000 minuti in poi è una parte lunghissima che non ti rimane niente sapete di cosa noi abbiamo parlato di Henry Cavill cioè il grande protagonista io speravo di averla in realtà ne abbiamo parlato parecchio perché il bronzo è il suo sì però a livello proprio interpretativo di scelta dell'attore ci può stare come superman io Henry Cavill guarda credo lo conoscevo da molto tempo da qualche anno prima di Man of Steel perché ero un grande fan dei Tudors la serie con Jonathan di Smiles ma quando l'ho scelto lo dissi anche se stavo mi ricordo che la notizia che uscì abbiamo scelto un volto televisivo e sarà una scelta inaspettata io dissi vi prego che sia John M però sapevo di sperare un po' troppo perché John M esatto era troppo vecchio al massimo sarebbe stato bene al posto di Ben Affleck a fare il Batman vecchio incazzoso eventualmente quando lo annunciarono gli dissi vabbè c'è il physique du role vediamo la verità è che seppur come piace a Paolo iconograficamente ci stia il problema è che non sa recitare il bambino cioè è molto semplice ragazzi è il cosiddetto manzo come ci sono sempre stati nel mondo del cinema che fa la sua apparizione fisica e poi la vince con il sorrisetto e la faccia incazzosa che citava prima Victor non è che ci abbia un grande range espressivo però c'è una cosa che esteticamente secondo me è il miglior Superman che si sia mai visto è lui io faccio fatica a trovarlo migliore di Christopher Reeve ma anche di Brandon Roof è nettamente più simile e migliore al Superman dei fumetti contemporaneo Rout e Reeves ci stavano per il Superman classico quello Golden e Super Age il Superman contemporaneo secondo me Kevil è perfetto sei mattiato fuori dalle pagine che metto esteticamente sono d'accordo esteticamente interpretativo però secondo me è un problema Kevil o meglio in realtà non gli hanno neanche permesso di esprimersi completamente verissimo come Clark Kent è impresentabile come giornalista è impresentabile sto qui che va in giro così no è vero ma anche come espressività ragazzi come guarda Bruce Wayne già dal trailer di Batman di Superman sembra non sono inviato di striscia la notizia è perfetto come Superman se gli avessero fatto interpretare i Superman come Clark giornalista ragazzi è l'opposto secondo me è l'opposto di secondo me è un Batman terribile ma è un Bruce Wayne è un Bruce Wayne perfetto sicuramente non sono Superman cioè Reeves aveva anche il vantaggio di risultare credibili in entrambi i ruoli a Kevil questo manca ma potrebbe essere anche colpa della direzione registica o della scrittura che della parte relativa a Clark se ne è più volte perdonami Matioschi nei commenti qualcuno dice non è vero il Mission Imposto è bravissimo a fare lo scazzottatore cioè non è che gli viene chiesto chissà quale range ma a me viene in mente infatti Woody Allen basta che funzioni non è che è bravino recitare però non è che l'ho mai visto eccellere prima di questo film quindi quando c'è da fare il suo ruolo d'azione ci sta io lo condivido poi ho una certa presenza purtroppo non l'ho visto in lingua originale quindi vedendo l'ho doppiato mi rifaccia a ciò che ho visto col doppiato e sinceramente mi è piaciuto molto però molto spesso col doppiaggio italiano un attore sembra bravissimo e poi magari lo vedi in lingua originale noti invece delle pecche è molto rigido è anche come cioè sembra Superman anche quando è Clark Kent è un problema questo sì 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 chissà magari con un'altra direzione avrebbero potuto incentivare la sua performance vedremo se si ripresenterà in futuro sullo schermo io non credo però non dire mai non tiriamoci la Superman no esatto esatto non mettiamo limiti e la provvidenza per me prima o poi sì invece ci sarà da aspettare ma prima o poi la vedo grigia la vedo grigia comunque questa è la nostra classifica del DC retrospective universe come notate l'uomo d'acciaio svetta in prima posizione perché l'abbiamo amato chissà poi nelle settimane successive cosa accadrà c'è un lungo viaggio davanti a noi se non sbaglio mancano otto film più Snyder Cut se non vado errato e quindi ci sarà da divertirsi o da soffrire a seconda delle circostanze settimana prossima Batman v Superman quindi fate i compiti a casa e riguardatelo io riguarderò io riguarderò io l'ho rivisto due settimane fa ma farò il bravo riguarderò e tiro subito la bomba quell'orribile versione estesa che per tutti è migliore rende il film migliore invece secondo me è peggiore della Tietricol perché è lunga insopportabile due balle con la versione estesa lì attenzione attenzione nessuno dice che non siano due balle però perlomeno ha un filologico malato stupido rimane un film di merda secondo me invece Vittor Messe non anticipiamo non anticipiamo ne parliamo ne parliamo esatto esatto avremo modo e tempo mamma mia io nel frattempo ringrazio i miei ospiti cominciando dal povero Paolo che ha deciso di sottoporsi ma certo a questo foco incrociato e penso la prossima settimana la prossima settimana con Batman v Superman cosa verrà fuori perché io oggi sono stato abbastanza moderato con Batman v Superman mi scateno prepara fammi capire ma perché Paolo a te piace Batman v Superman mi piace tutto Paolo no tutto no tutto il DCX di universe no però Batman v Superman è uno dei miei preferiti dell'universo sono così contento di non essere a te settimana prossima sarà una spremuta del sangue ok va benissimo non vedo l'ora salutiamo Emilio di Unbounce grazie mille è sempre un piacere sono curioso di vedere Paolo la prossima settimana perché veramente Batman v Superman se questo più o meno la sufficienza potevo trovargliela me lo riguarderò anch'io perché l'ho visto una volta devo recuperarla vediamo però la settimana prossima sono curioso vediamo come cosa si evolve saluto Michele Innocenti grazie dell'invito in effetti chi ce l'ha fatto fare ma vabbè ormai siamo in ballo balliamo ci rivediamo la prossima settimana Batman v Superman è un film a cui ho cercato di voler bene qualcuno ancora mi rinfaccia questo colpo alla Paolo Innocenti appena uscito al cinema dissi che comunque era divertentissimo poi quel post non l'ho mai cancellato perché sono coerente ma con la vecchiaia un po' di saggezza è arrivata e quindi insomma ne vedremo pagato pagato e infine saluto Victor Laszlo 88 grazie grazie per l'invito in questa rubrica che ormai è da quella del Marvel che sono qua ogni mercoledì tu sei sempre presente ogni mercoledì sei la grande costante a volte riesco riesco a essere però dai oggi è finita prima di quello che pensassi intanto rispondo alla domanda guarderete anche Joker Joker no perché non è incluso nel DC Extended Universe anche perché lì mi sa che sono io che mi trovo in difficoltà ma forse anch'io non è piaciuto ah ok allora va benissimo allora facciamo anche Joker no 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 sto scherzando sto scherzando parliamo dell'universo DC Extended quello dei personaggi della Justice League Snyderiana dei vari spin off eccetera eccetera quindi detto ciò ci congediamo e ci vediamo mercoledì prossimo alle 14 con un'altra puntata del DC Retrospective Universe Batman v Superman oh che meraviglia ciao a tutti alla prossima ciao 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 ciao